cari amici telespettatori di legnano web tv un buonasera da axel paderni e benvenuti a una nuova puntata di alla riscoperta dei sapori oggi siamo qua al ristorante pizzeria la nuova pergola di san giorgio su legnano per un'occasione abbastanza speciale perché oggi è la giornata mondiale della pizza e abbiamo qua il titolare la titolare la bellissima signora clara che veramente ringraziamo per averci aperto le sue porte beh che dire quando è che nasce questo bellissimo ristorante veramente molto accogliente molto familiare allora nasce negli anni 60 precisamente nel 63 è creato dai miei nonni e dopodiché siamo sono subentrate la mia mamma e sua sorella e poi siamo arrivate io e mia sorella nel 99 e adesso io e mio marito stiamo continuando portare avanti un po tutta la tradizione si si inserendo appunto abbiamo inserito nel 2012 la pizzeria e e ci crediamo insomma convinti di questo settore ma toglimi una curiosità clara che genere di cucina proponete per i vostri ospiti allora noi proponiamo una cucina casalinga piatti tipici milanesi però portiamo avanti anche un tipo di cucina un attimino più elaborata piatti di carne pesce e anche la nostra pizzeria che propone delle a nostro avviso un impasto semplice ma ma curato nei dettagli e comunque leggero e con materie prime sempre ricercate e fresche soprattutto andiamo proprio a parlare un attimo della pizzeria giusto un accenno poi magari farò due domande al vostro pizzaiolo oggi appunto è la giornata mondiale della pizza chiaramente oggi partecipate a questa iniziativa promossa dalla proloco di san giorgio su legnano che cos'è che ci vuoi raccontare che era che ricette avete preparato allora noi abbiamo proposto una pizza che l'abbiamo chiamata pizza quattro zone previsto il periodo purtroppo pesante per tutti siamo fiduciosi in un in un arrivo in una tanto attesa della zona bianca e quindi abbiamo proposto la nostra pizza con una burrata al centro e praticamente un sole che fa arrivare a questa zona bianca e i raggi sono composti da zona arancio salmone zona rossa pomodorini e zona gialla con peperoni gialli quindi il sole in teoria è la rinascita finalmente quindi quando saremo in zona bianca saremo poi tutti felici quindi una pizza a nostro avviso buona sfiziosa e quindi abbiamo proposto ai nostri amici pro loco questa pizza quattro zone siamo qua con il pizzaiolo Filippo beh che dire sinceramente questo è un puro capolavoro direi grazie buonasera questa è la pizza quattro zone noi l'abbiamo proposta appunto per le quattro zone tra cui l'arancione il giallo e il rosso speriamo che rimanga solo il ricordo di una buon pizza e potendo uscire presto da questo periodo togliami una curiosità che tipo di impasto hai proposto questo è un impasto classico farina lievito olio e sale e quante ore è lievitato questa la mia pizza minimo deve lievitare minimo 40 ore siamo qua con il fact totum del ristorante il signor christian veramente io vi faccio i complimenti perché veramente insomma mi sta venendo soltanto fame a guardare tutti questi bei piatti grazie mille e speriamo che questo lockdown finisca presto e puntiamo in una nuova rivincita continuando la nostra rassegna per le pizzeria di san giorgio sul ognano siamo arrivati qua alla pizzeria venere e siamo qua con la simpaticissima signora lella beh io innanzitutto ti faccio i complimenti perché questo ristorante è veramente accogliente grazie grazie mille beh ma parlando un po del ristorante da quanto tempo lo gestisci da sette anni dal 2013 cos'è che ti ha portato a insomma a intraprendere questa carriera e di aprire un tuo ristorante un grande sogno che non credevo neanche che si realizzerebbe mai però si è realizzato con tanta tanta fatica però tanti sogni da realizzare mi piace tanto e poi soprattutto quello che ho notato veramente comunque l'ambiente molto caloroso molto familiare soprattutto anche siete tutti giovanissimi sì è vero grazie ma invece parlando proprio della rassegna di questa sera che cos'è che che pizza particolare proponete allora stasera vi propongo una pizza con tartuffo e radicchio bianca molto molto buono decisamente andremo a provarla ma toglimi una curiosità secondo te questa rassegna promossa dalla proloco vi ha aiutato comunque a incrementare soprattutto vi avvicinati in un momento che è poco simpatico ancora di più alle persone tantissimo e li ringrazio molto che ci sono stati tanto tanto vici giusto due battute con il pizzaiolo beh ti chiami Andrew veramente ti faccio veramente i complimenti perché si vede proprio che fai questo mestiere con grande passione grazie mille ci tengo tanto il mio mestiere mi piace tanto a fare pizzaiolo e grazie a voi da quanto tempo lo fai da otto anni e che come ti sei cioè come ti trovi soprattutto a lavorare in questa pizzeria guarda mi piace tanto lavorare in questa pizzeria perché abbiamo un tutolare gentilissima e ci tengo tanto il mio tutolare anche come il mio mestiere adesso inquadrando un po questa bellissima pizza cos'è che ci vuoi raccontare e guarda è questa pizza fatta con crema di tartufo radicchio specche che una pizza è fino al mondo e io non vedo l'ora di assaggiarla andiamo assaggiarlo allora bene amici siamo alla pizzeria amalfi di san giorgio su legnano sono qua con la simpaticissima e accogliente signora carmen che dire un posto piccolo ma molto accogliente sì certo vengono volentieri clienti sono ben trattati poi facciamo consegne sia a domicilio anche l'asporto cerchiamo di accontentare tutti da quanti anni è che avete questa bellissima attività e questa pizzeria ripetiamo a conduzione familiare la nuova gestione da due anni c'era anche c'era fin da prima un'altra gestione io sono qua da quattro anni circa signora carmen sinceramente come vede questa iniziativa della pro loco proprio per avvicinare chiaramente la popolazione alle pizzerie locali una bella iniziativa beh noi ci siamo divertiti a inventare una nuova pizza ma penso che adesso i abitanti di san giorgio hanno visto le nostre pizzerie cosa fanno e fare della pubblicità in più visto il periodo un po così grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti